Disco X è una bella raccolta di storie, personaggi, amori, tragedie e con incursioni anche nel sociale, con i temi dell'integrazione e dei bambini vittime delle guerre, gli omaggi ripetuti, nascosti o palesi a Lucio Dalla. Disco X è il nuovo album di Daniele Silvestri, bentornati a Radio Puginion Air. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del nostro video trovate la playlist con tutte le nuove uscite discografiche aggiornata in tempo reale, per cui cliccateci sopra dopo aver ascoltato questa nostra puntata e andate a curiosare le cose già uscite e cosa uscirà. Prossimamente, ma lo scopriremo fra pochissimo, il 9 giugno, il 9 giugno dalla mezzanotte potrete anche ascoltare il nuovo album di Daniele Silvestri che si presenta al Fatto Quotidiano rilasciando una bellissima intervista che ora andremo a leggere così sapremo tutto ciò che c'è da sapere su questo nuovo singolo in uscita. Album, scusate, album naturalmente. Sono felicemente un cantastorie. Così Daniele Silvestri si presenta a 4 anni dal precedente progetto discografico con i nuovi brani di Disco X. Allora, cosa possiamo dire? Non mancano le collaborazioni nate in maniera del tutto spontanea. Infatti il cantautore ha mostrato ai giornalisti del Fatto Quotidiano un video, mi sembra di aver capito, dei video che ritraevano gli artisti coinvolti nei featuring dell'album passati da casa sua. Ed ecco che ci sono Fulminacci di cui dice Daniele Silvestri lo considero un po' un figlioccio. In L'uomo nello specchio, questo il titolo in cui ci sarà il featuring di Fulminacci che Daniele considera un figlioccio. Giorgia, che è stata molto generosa perché l'ho chiamata in mezzo ai suoi mille impegni, ha detto sempre Silvestri, e sarà presente nel brano per la magia jazz di Cinema Dessai. E poi c'è un'attrice, l'attrice neo premio David di Donatello, Emanuela Fanelli, nel singolo Tutta e la contaminazione jazz rap con David Shorty in Up in the Sky. Bene, quindi anche tante collaborazioni in questo album. Il decimo disco della carriera di uno dei cantautori più interessanti del panorama musicale italiano, che nasce in parte come work in progress sul palco dei teatri, dove Silvestri si è esibito in questi mesi. Da alcuni racconti della platea o arrivati sui social, si è piano piano sviluppato un impianto musicale per poi arrivare ad un abbozzo di forma canzone. Così alcuni brani sono entrati dritti nel disco. Dal primo luglio Daniele Silvestri, attenzione, tornerà in tour con Estate X fino a settembre. E ora vediamo l'intervista del Fatto Quotidiano. Gli viene domandato, da dove nasce questo metodo di lavoro? E Daniele Silvestri risponde, dalla voglia di sporcarsi le mani e suonare di un certo modo, ossia più semplice e libero possibile. Hai ricevuto più racconti da uomini o donne? Stranamente moltissime donne si sono raccontate. Come mai questo titolo? Semplicemente ho nominato la cartellina del mio PC mentre la stavo riempendo con le nuove canzoni. Non pensavo sarebbe stato quello il titolo definitivo. Man mano poi mi sono reso conto che aveva un senso. Per fare un sacco di clicks ci vuole un ospite X, dategli un foglio e una bic, fatelo urlare nel mic per un miliardo di stream. Nel primo brano, intro X, non le mandi a dire, gli dice il giornalista. Lui risponde, il mio benvenuto collettivo ironico, in sé il concetto del featuring non mi dispiace, ma ultimamente vedo un'esasperazione. Vengo dagli anni 90 quando le collaborazioni erano davvero rare, quando accadeva era davvero un evento. Io, Gazze e Fabi siamo stati tra i primissimi. Oggi c'è una cosa verso, c'è una corsa, scusate, verso la banalizzazione. La corsa ha i like e questo innesca un meccanismo per incrementare lo streaming. Riconoscere i featuring veri e sinceri è abbastanza facile, fermo restando che nell'ambito della musica rap è normale che le collaborazioni ci siano. Penso all'esperienza di Macete Crew. Altra domanda, in Il talento dei gabbiani parli anche della potenza dei talent sulle vite di famiglie e ragazzi. Da dove nasce questo racconto? Da diverse storie che ho ascoltato e che mi sono arrivate. Ragazzi fragili e colpiti da esperienze, poi non sfociate nel successo. Parli di vittime di depressione? Sì anche. Penso sia inevitabile accada se per arrivare al cosiddetto successo si offrono scorciatoie che noi chiamiamo talent. Descrivo le famiglie che spingono i ragazzi a partecipare, il direttore di produzione di uno studio tv che accompagna al patibolo i candidati e infine i protagonisti e aspiranti concorrenti di talent che alla fine prendono le distanze da tutto questo. Il finale lascia uno spiraglio di speranza. Allora la domanda è cosa non funziona nel sistema talent? Daniele Silvestri risponde I talent ci hanno riempito gli occhi e le orecchie in tutti questi anni di tante cose che sono uscite da lì ed hanno avuto vita e durata estremamente breve. Tutto si decide in pochissimi minuti perché c'è qualcun altro che decide il tuo destino. Il talento è apparenza, c'è voglia di apparire e far spettacolo. C'è la trappola dell'essere giudicati e guardati in ogni istante in modo quasi definitivo. C'è un evidente scollamento e disfunzione rispetto al mondo reale. E altra domanda. In Mare Ciai una zingara fa una fine tragica. Perché in Italia dopo anni c'è una mancata integrazione? Questa è l'ultima domanda che il Fatto Quotidiano rivolge a Daniele Silvestri. E la risposta è che in questi anni questo popolo viene associato con la cassa di risonanza dei media alla microcriminalità. Parliamo però di un popolo ricco di storia portato per sua stessa formazione antropologica al nomadismo. Anziché ricorrere al facile insulto dovremmo comprendere la loro cultura che io trovo sia affascinante. Bene, questa era l'intervista con cui Annuncia presenta il suo nuovo disco X Daniele Silvestri. Voi cosa ne pensate? Io devo dire sì, si può argomentare. Non ero proprio d'accordo su ogni punto. Sono curioso di sapere qual è il vostro punto di vista. Se è lo stesso di Niccolò Fabbi sulle domande che abbiamo ascoltato. E naturalmente siamo curiosi di ascoltare il nuovo disco X. Così abbreviamo invece il nuovo album disco X. Direttamente il nuovo disco X. E lo ascolteremo, abbiamo detto, dal 9 giugno. Per cui dalla mezzanotte potrete trovarlo anche nella nostra playlist speciale. Quella che trovate nella descrizione del nostro video su YouTube con tutte le nuove uscite aggiornate in tempo reale. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Radio Puggini On Air. Ringrazio tutti gli iscritti, tutti coloro che ci seguono e con cui spesso abbiamo dei bellissimi dialoghi nei commenti. Per cui continuate a dirci la vostra. Abbiamo anche un altro format, ultimamente lo state apprezzando molto. Noi continueremo con le canzoni imperdibili. Se non avete ascoltato nessuna puntata di canzoni imperdibili andate a cercarle sul nostro canale Marco Puggini. Che è qui per voi stasera e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Radio Puggini On Air. Restate sintonizzati. Grazie a tutti.